Musica Musica Buonasera a tutti Siamo arrivati anche quest'anno alla conclusione di quest'annata calcistica Con la calcistica Spinella Il primo anno con Reset Academy Abbiamo portato a termine il nostro lavoro sul campo Oggi stiamo soltanto controllando con gli allenatori Mettendo a punto anche le cose che non sono andate Quest'anno dal punto di vista metodologico e didattico Quindi oggi saluteremo i ragazzi Faremo questa bellissima festa insieme a tutti i tesserati della scuola calcio Per poi salutarci e darci appuntamento all'inizio del prossimo anno Con nuovi obiettivi e una nuova programmazione della stagione Devo fare i complimenti alla società della calcistica Perché come al solito ha rispettato le nostre aspettative Quindi siamo molto molto soddisfatti di come lavorano con i ragazzi Di come fanno divertire i bambini E allo stesso tempo cercano di trasmettere dei messaggi positivi Dal punto di vista calcistico Quindi faccio ancora una volta un augurio importante alla calcistica E un arrivederci al prossimo anno È alta! È alta! È alta! È alta! È alta! Salve, sono Antonio Ficara, preparatore dei portieri della calcistica Spinella. Questa è la mia prima stagione a merito per quanto riguarda la preparazione dei settori giovanili e primi calci, anche perché sono stato con la Valle Grecanica già anni fa quando militavo in interregionale. Ho portato il mio bagaglio di esperienza anche perché non avevano un preparatore dei portieri che si occupasse del ruolo specifico nelle passate stagioni e quindi abbiamo iniziato secondo me con una buona base di partenza e durante l'anno il lavoro si è visto perché siamo arrivati nelle fasi finali portando dal mio punto di vista e dal ruolo che mi occupo dei portieri che hanno saputo dare un'impronta decisiva per il proseguo del campionato. L'obiettivo del prossimo anno con la società è di ampliare il parco dei portieri e cercare anche strutturalmente migliorare quello che c'è stato quest'anno perché il ruolo dei portieri è stato sempre negli anni un po' bistattrato, un po' lasciato a se stesso e anche se negli ultimi anni devo dire da molte più parti si sta avendo una predisposizione, una concezione affinché questo ruolo va sempre migliorato perché necessita appunto di una grande mano d'opera a livello calcistico se così si può dire perché adesso più che mai i portieri in Italia stanno venendo sempre meno, se noi non avessimo avuto Gigi Buffon in porta magari a quest'ora avremmo avuto sempre meno i portieri perché magari i giovani portieri si ispirano sempre ad una questione, ad un concetto positivo di portieri. Siamo arrivati alla fine della stagione e come dicevo è una società calcistica, la calcistica Spinello è una società in salute o ben organizzata, dove la dirigenza è sempre dinamica e attiva nel proporre ai giovani ragazzi nuove prospettive nel senso che abbracciano vari campionati e l'obiettivo è sempre crescere, crescere insieme a loro magari il prossimo anno affrontare dei campionati a livello regionale che ci possano fare avere una competizione con altre scuole calcio che sono nello stesso pari grado e per poter crescere un po' di più. Il mio augurio è che come preparatore dei portieri e che nelle scuole calcio il ruolo dei portieri viene sempre più evidenziato e migliorato e ci ritroveremo il prossimo anno sicuri di poter lavorare ancora meglio di come abbiamo fatto quest'anno. Il mio augurio è un po' di più 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 Fondamentalmente interessa la crescita dei ragazzi che è un obiettivo che perseguiamo anno per anno giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e sono sicuro che ce la stiamo facendo per creare dei ragazzi che un domani nella società possono avere dei punti fermi sui quali basarsi per poter portare avanti i propri progetti e le proprie idee e il mio augurio è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'anno scorso abbiamo vinto sia il campionato che la Supercoppa. Quest'anno è andata male, però ci riproveremo il prossimo anno. Mentre per i piccolini, per quanto riguarda la scuola calcio, è sempre una festa ogni partita, perciò non guardiamo il risultato ma la crescita e al divertirsi di ogni bambino. E i programmi per la prossima stagione? Stiamo pensando di fare qualcosa di meglio rispetto a quest'anno, sia per quanto riguarda le categorie superiori perché pensiamo che è arrivato il momento di confrontarci con realtà migliori rispetto ai provinciali. Quindi se ci sarà la possibilità sia dei ragazzi, perché è un impegno più serio, sia della società, la nostra idea di noi istruttori è di fare gli allievi regionali. Penso abbiano le caratteristiche per confrontarsi con questa realtà che è più impegnativa, però è uno stimolo in più sia per noi allenatori che per i ragazzi. Mentre per quanto riguarda una nuova affiliazione io non lo so, penso che qualcosa bolle in pentola, però non voglio svelare nulla. Vediamo cosa pensano in dirigenza e poi vediamo quello che decideranno. Per quanto riguarda una nuova affiliazione io non lo so. Per quanto riguarda una nuova affiliazione io non lo so. La stanchezza adesso si fa sentire dopo un anno pieno di impegni ma come ripeto già ricca di soddisfazione. Adesso già stiamo pensando al dopo, infatti stiamo organizzando il campus estivo con il nome della calcistica, a nome della calcistica, con gli istruttori della calcistica. E' anche un modo per pubblicizzare la nostra prossima iniziativa, sperando che anche questa abbia successo come tutto il resto. Qua ai campetti surfaro dal 20, penso da metà giugno, ancora le date non sono stabilite, ma da metà giugno a metà luglio sarà un mese. Che non sarà rivolta solo al calcio ma praticheremo tanti altri sport come volley, basket, altre attività ricreative per tutti i bambini dai 6 ai 13 anni. Speriamo di avere una grande influenza e noi saremo contenti ancora una volta di accogliere i ragazzi. Già l'ho detto, è stata una stagione positiva con tutte le categorie, abbiamo avuto ottimi risultati, ma ovviamente non ci fermiamo qui, vogliamo sempre fare meglio noi e i miei colleghi mister, Manti, Macheda, Cece, Labbate. Ci auguriamo che l'anno prossimo si possa ancora migliorare. Un saluto da mister Claudio, grazie. Un saluto da mister Claudio, grazie. Allora mister, siamo arrivati alla conclusione della stagione anche per quest'anno e tiriamo un po' le somme. Un bilancio soprattutto per la categoria che allena. Allora è stato un bilancio positivo con i piccolini non tanto per i risultati sul campo quanto per la crescita che hanno avuto e per come si sono divertiti e per come sono cresciuti il ragazzo per il ragazzo. Con gli esordienti è stata positiva soprattutto per l'esperienza che abbiamo avuto a Roma, dove abbiamo giocato con squadre del calibro dell'AS Roma, del Parma Calcio, dove ci siamo posizionati al terzo posto. Quindi sono molto contento e orgoglioso per il ragazzo. Ciao bimbo, come ti chiami? Davide. Davide come? Leone. Allora, che stai facendo? Ti piace la scuola calcio? Sì. Ti diverti? Stai divertendo? Sì. E cosa fai? È scuola? Sì. E parlami un po' di te, parlami della scuola calcio, dai. E' l'ola. Di solito noi andiamo... Guarda a me però, guarda a me quando fai. Facciamo prima ieri i metti, dopo una squadra di là, una squadra di là e una squadra di là. Cosa fanno queste squadre? Queste squadre si battono tra loro. Una squadra di pallone e una squadra di pallone. Sono forti questi bambini. Tu sei forte? Sì. Guarda. Ah, che sei forte. Ti piace giocare? E come? Dove gioca? Avanti, in porta? Cosa fai? Allora, ci sono quelli... I bianchi hanno battuto là, i vecchi gialli hanno battuto là. Ah, ma tu che cosa fai? Il difensore o l'attaccante? Dove giochi? Il difensore. Il difensore? Mmh. Ti piace difendere? Mmh. Ma sei forte il difensore? Sì. Bravo. Quanti anni hai? Quattro anni. Sei bravissimo. Saluta, saluta, saluta a tutti. Vuoi salutare qualcuno? A mamma, a papà? A chi vuoi salutare? A papà. A papà? Mmh. E a mamma no, non la salita a mamma, solo a papà? Sì. A tutti, come? Anche a tuoi compagni? Mmh. Buonestate a tutti da Davide, dite. Ma, ma vedi che puoi tirare pure fuoco. Quindi, buonestate a tutti da Davide, veloce. Buonestate a tutti da Davide. Bravo. Buonestate a tutti. Allora, buonasera. Intanto saluto gli amici di Telemerito, Bruno Taverna, soprattutto in primis. E anche noi per quest'anno siamo ormai alla fine della stagione sportiva 2015-2016. Diciamo che gli addetti lavori quest'anno sono orgogliosi tutti per i risultati ottenuti sui campi, per il lavoro che si è fatto all'interno della scuola calcio e allo stadio comunale dello Spinella. Siamo entusiasti perché i ragazzi, soprattutto, sono rimasti contenti, hanno sposato i nostri progetti che sono stati portati a termine. Il nostro programma iniziale che avevamo già esposto ai genitori e ai ragazzi è stato, diciamo, fatto bene. Abbiamo avuto gli ottimi risultati di cui ne avevamo parlato prima. Per il nostro futuro, per la prossima stagione, che sarà quella del 2016-2017, ci saranno altre novità che poi, in seguito, qui e là, magari nella presentazione del nuovo progetto diremo tutto. C'è un programma che a noi sembra importantissimo, che ci verrà prospettato da Pierluigi Perrone, che oggi ce l'abbiamo qui come ultima visita per quest'anno dell'Academy Reset Club, quella di Marcello Lippi, al quale ci ha esposto il nuovo programma che andremo a affrontare il prossimo anno. Noi diamo continuità ai suoi progetti per la preparazione che ha e anche perché con lui lavoriamo da quattro anni, per la formazione che sta dando ai nostri istruttori e per tutto quello che ci porta di nuovo all'interno della scuola calcio, perché io vorrei precisare soprattutto ai cittadini di Merito e dei paesi vicini, di cui siamo fieri che i nostri figli vengano nella nostra scuola calcio. Abbiamo sposato questo programma con Pierluigi Perrone, in quanto lui va ad analizzare ogni singolo ragazzo e ogni singolo dirigente e tutto quello che si fa per il calcio e lo sport che noi facciamo praticare ai nostri ragazzi, diciamo a 360 gradi. Lui è molto meticoloso, soprattutto nella preparazione di ogni singola fascia di età, di ogni ragazzo, di ogni tipo di problemi che si può avere con loro e poi ha dato un salto di qualità alla scuola calcio, si è visto nei risultati soprattutto che abbiamo ottenuto quest'anno. Non stiamo lì a elencare perché quasi in tutte le categorie siamo arrivati prima, abbiamo fatto finali, tanto voglio dire, la storia si sa di questa annata sportiva che si è letta sui quotidiani e nei media. Ora noi oggi faremo una grande festa con i ragazzi, i ragazzi verranno premiati tutti, ci sono tutti i nostri istruttori, ci sono tutte le famiglie e come il consuetudine della calcistica a Spinella approfittiamo di questa giornata splendida che sarà per darci un buon augurio per le vacanze, sia per noi che per tutta la cittadinanza di Merito. Un buon augurio per chi è vero e come ancora vivALI per soprattutto il capo di questi due giorni. Abbi, primo, cinque, abbiamo fatto anche la prova, primo. Uno, cinque. Domenico Cristian Fantastico Riccardo Caniele Francesco Dani No 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 Vieni qua Vieni qua Cristian Rosario Giorgino Attenzione Ecco a te Pier Attenzione Ecco qua A chi tocca A chi tocca A chi lo preso A meno Vai Sì Questo è quando vediamo il posto della gara. D'accordo? D'accordo fatto? D'accordo. 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 Domenico. 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 Grazie. 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 Questa è la medaglia per lo sconso, lui è il suo amico, è venuto e ha preceduto, per ovviamente i motivi di lavoro è dovuto andare via, lo andiamo a tenere, poi gliela e la nostra famiglia, questo ovviamente è perché Luigi, noi sono anni che ormai collaboriamo con lui, ci sta cercando di migliorare, noi ce la facciamo, ce la facciamo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti